Tutto pronto a San Giovanni Appiro per la 41esima edizione della Corsa Longa, la gara podistica più longeva del Cilento che si terrà sabato 25 maggio con partenza alle 17 e arrivo fissati come di consueto all'annunziata in via Teodoro Gaza. Già centinaia gli atleti iscritti, i runners affronteranno 9 chilometri mozzafiato di un percorso misto durissimo con continui saliscendi in mezzo alla natura incontaminata dove collina, montagna e mare si abbracciano. Quest'anno sono previsti bonus per tutti coloro che supereranno i record della competizione, 150 euro per il record assoluto sia maschile che femminile, 100 euro per il primato italiano maschile e femminile, 50 per i record San Giovanni detenuti da Giuseppe Sorrentino, 33 secondi netti e Sara Centrangolo, 45 secondi e 15 primi. L'organizzazione della Corsa Longa, gara Fidal, è a cura della SD Cilento Run e dell'associazione Media Piros, sotto legida del Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Oltre alla gara principale, previste la non competitiva di 5 chilometri, le gare promozionali di 100, 200, 600 e 800 metri e la baby Corsa Longa di un chilometro per i più piccoli. Il crono e le classifiche saranno a cura di Camelot Sport, mentre il pacco gara della Corsa Longa San Giovannese quest'anno sarà caratterizzato da una grande novità. Al suo interno i partecipanti alla competizione troveranno esclusivamente prodotti biologici cilentani. All'evento podistico, uno dei più importanti della campagna, è atteso un pubblico numeroso che, come nelle passate edizioni, sosterrà i propri beniamini in ogni punto del tracciato, dal tornante della Martellata al belvedere delle quattro regioni a Ciolandrea, fino alla salita di Pietra Pacifica, tra archi e portali antichi, passando per la durissima salita della Petrosa e per il Monte Pacuma, punto più alto della Corsa Longa, con i suoi 603 metri sul livello del mare. Grazie a tutti.